Ciao a tutti amici di Tex, sono qui con grande piacere per presentarvi il mio amico Hatch, la storia di Tex Wheeler di novembre. Ho avuto l'onore di scriverla per i disegni Fabio Valdambrini, è la mia storia sinora che ho scritto più importante perché è una storia lunga di Tex, in quattro albi, che durerà fino a febbraio 2022, e torna Hatch, l'amico di Tex, di infanzia, che ha inventato il boss nella storia capolavoro di Tex, una pietra miliare, gli Invincibili, che uscirà, vi do quest'anteprima, come terzo albo delle grandi storie Bonelli, nel retro della sciamma di copertina dei Fratelli di Sangue, che è una storia di Zagor, la seconda storia delle grandi storie Bonelli, che però fa da prequel allo speciale Tex Wheeler numero tre, che è uno speciale specialissimo dove Tex incontra Zagor, una storia che io da fan aspetto, ormai l'ho già letta, ma insomma aspetto in maniera molto gasante, aspettavo in maniera molto gasante, è spettacolare, scritto al boss, e qui ci sono le due copertine della storia mia che escono. Niente, Fabio Valdambini che ha disegnato questa storia, anzi sta finendolo, ho appena sentito il telefono, deve finire le ultime pagine della storia di febbraio, ha fatto un grandissimo lavoro, ha disegnato bene Hatch, ha disegnato bene Tex, ma ha disegnato anche Kit Carson, Arkansas Joe o Arkansas Joe, Dan Bunyan e Ben Dragoo, perché ci sono i Rangers dalla seconda parte in poi, poi vedrete insomma che partiranno nella storia, che è un po' particolare, anzi vedrete nel corso della storia, chi di voi la leggerà, che ho citato vari miei maestri, insomma ho voluto ricreare quelle emozioni che loro mi davano con le storie che leggevo, perché io sono, cioè ho l'onore, come tu hai descritto questa storia, ho l'onore di poter lavorare qui in redazione accanto ai miei maestri, maestri che ci sono sempre come Mauro Boselli e Maurizio Colombo, maestri che ormai non ci sono più, ma che tutti seguiamo religiosamente come Gianluigi Bonelli, il creatore dei Tex, o Sergio Bonelli che ha scritto tante storie di Tex e che è anche con il nome di Guido Nolitta e che è anche l'editore di cui la Casa dei Dici porta il nome e niente, se scorgete tutte queste citazioni che ho messo dei miei maestri, scrivetecelo in redazione, facciamo questo gioco insomma, spero che vi piaccia, che sia una storia avventurosa come tutte quelle del giovane Tex Wheeler, che è più scavizzacollo e burrascoso del Ranger solido e sicuro che abbiamo conosciuto nella serie Tex, niente, vi do un appuntamento in edicola, ciao a tutti e grazie.